Il mancino di Paolo Dybala, la parata di Donnarumma! E qualcuno del Nilo scattava già! Kuzka è partito! E' una grandissima parata perché, come abbiamo detto prima, se lui battezza l'angolo ci arriva! Ha fatto una grande parata! Kuzka era partito, convinto che fosse finita la partita! E adesso il pallone che vale la Supercoppa è sui piedi di Mario Pasalic! Il croato, classe 95, in prestito dal Chelsea! Pasalic contro Buffon! Il gol ha vinto il Milan! Il Milan si aggiudica la Supercoppa 2016! Il giro! Vediamo i ragazzi! Jack, Jack, Jack la mette in mezzo! Calcio d'angolo! Palla deviata da Posa! Suso, Suso, il tiro! Gol! La Padula! Oh! La Padula! Segna duro! Faccio un gol! Perché ha segnato proprio, proprio, proprio la Padula! Colpo, colpo di tacco, colpo di tacco di la Padula! Oh! La Padula! La Padula! Segna tu! Vai, palapa, lapa, 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 gol! Lapa, 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 gol! 2-1! 2-1! Dopo tre occasioni, Suso! Suso per la Pagona! Go to work, bitch! Ma buona avventura! Eccolo il suo cross con il destro! Non esce consigli! Va a paletta più in alto di tutti! Ma non ci arriva da fuori Locatelli! Che gol! Il primo in Serie A! Manuel Locatelli, fantastico! E colta il 3-3! Sinistro all'incrocio! In pochissimo tempo è tornato l'entusiasmo a San Siro! Nyanga lascia partire il cross! Arriva Paletta! Primo gol con la maglia del Milan! Gabriel Paletta! 4-3! Go to work, bitch! Go to work, bitch! Il guardiano della luna! 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 Trionfo! Il guardiano della luna! Benatiano allarga poi per Abate dentro Abate per il taglio buono di Suso vorrà rientrare sul mancino lo fa seguito da Benatiano dentro ancora per Locatelli posizione di tiro Locatelli Manuel Locatelli colasso di Locatelli colasso